Presidente Marchesani, troppo forte Forlì nell'ultimo quarto, 70-59 il finale, ma qualche rimpianto deve esserci? Io non direi troppo forte Forlì, anche se è un'ottima squadra, abbiamo retto benissimo per tre quarti di gara, purtroppo poi abbiamo allentato un attimo in difesa e ci sono giocatori ai quali non puoi dare spazio, in effetti poi abbiamo subito la loro forza fisica, la loro qualità dei giocatori, però per tre quarti, anzi direi abbiamo avuto quel momento che è durato un paio di minuti, tre minuti, dove hanno avuto un break pesante, importante e li siamo andati sotto, poi è chiaro che non abbiamo avuto la forza di ricucire, di riportarci a ridosso del loro punteggio. Chieti che per più di 30 minuti ha fatto una partita alla pari con la prima della classe, d'accordo? Sono soddisfatto di come ha giocato Chieti, ho detto prima, tre quarti ha giocato molto bene, purtroppo è venuto a mancare l'apporto di qualche giocatore che stava un po' sotto tono rispetto alle precedenti uscite, ci può stare perché comunque è una squadra giovane, è una squadra in crescita, è una squadra che sta lavorando appunto per raggiungere l'obiettivo che sappiamo tutti, che poi è quello della salvezza, quindi Forlì comunque onestamente è di una caratura tecnica superiore alla nostra e perdere con Forlì in casa ci potrebbe anche stare. Forlì in casa ci potrebbe anche stare.